L'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso è la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati e successivamente sul canale satellitare della Camera dei Deputati. Comunico altresì che dall'audizione odierna sarà redatta e pubblicato il resoconto stenografico. L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente dell'Autorità per le Garanzie e le Comunicazioni, Angelo Marcello Cardani, che ringrazio per il raccolto e l'invito della Commissione. Il Professor Cardani riferirà sul tema della tutela del pluralismo e della comunicazione politica e della parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali, anche in relazioni allo schermo e regolamenti in materia che l'Autorità per le Garanzie e le Comunicazioni ha trasmesso alla Commissione lo scorso 28 novembre ai fini della consultazione preventiva prevista dalla legge 22 febbraio 2000 numero 28. Inoltre, come convenuto dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, il Professor Cardani riferirà per l'occasione anche sulla par condicio nei periodi elettorali. Do la parola al Professor Cardani con riserva per me e i colleghi di rivolgere di domande e richieste di carimento al termine del suo intervento. Grazie. Grazie a lei, Presidente. Grazie a tutti i membri della Commissione per aver voluto ascoltarci, ascoltare me, il collega Antonio Martuscello, la dottoressa Liberatore e il professor Stazzi, che mi accompagnano. Io salterò, dato che l'ora non è delle più propizie, salterò qualche punto del documento che comunque è stato distribuito e i pezzi che non leggerò saranno comunque a loro disposizione. La consultazione di oggi, la consultazione odierna, si inserisce come, ho avuto modo di dire altre volte, nel processo di revisione della vigente disciplina regolamentare del periodo non elettorale, che l'autorità ha avviato a novembre del 2013, adottando uno schema di regolamento che è stato loro trasmesso ai fini delle consultazioni previste dalla legge 28 del 2000. Lo schema di regolamento è stato altresì sottoposto a un ciclo di audizioni, con emittenti radio e televisive e le associazioni maggiormente rappresentative del settore, e con i comitati regionali per le comunicazioni, i corecom, in virtù del ruolo rivestito da questi ultimi in materia di par condicio. In questa relazione, quindi, ragguaglierò tutti loro anche sulle principali indicazioni che sono emerse da questo ciclo di audizioni. L'esigenza di procedere alla revisione delle disposizioni attuative della par condicio nei periodi non elettorali deriva dalla concomitanza di vari fattori. In primo luogo, la vigente disciplina, che trae la sua origine nelle delibere 200 del 2000 CSP e 22 del 2006 CSP e 243 del 2010 CSP, essendo la risultante di interventi adottati via via nel tempo, appare oggi a uno stato disomogeneo e sicuramente molto datata. In secondo luogo, il processo di innovazione e di trasformazione del sistema dei media introdotto dalla tecnologia digitale postula che, quantomeno nella normazione di secondo livello, si tenga conto dei cambiamenti intervenuti nelle modalità di fruizione del mezzo radio-televisivo e nei format dei programmi. Lo schema di regolamento sottoposto a questa Commissione in attesa del nuovo intervento del legislatore in materia che ha avuto più volte occasioni di auspicare, intende quindi dare attuazione coordinata alla vigente normativa del periodo non elettorale, unificando in un unico corpus regolamentare le norme attualmente contenute in provvedimenti diversi e introducendo per quanto possibile le innovazioni che si rendono necessarie a seguito del mutamento di scenario, delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa e dalla prassi sino ad ora maturata dall'autorità. Passo a una breve illustrazione dello schema del provvedimento che si compone di 43 articoli suddivisi in 7 titoli. Nel titolo primo è stato inserito un articolo dedicato alle definizioni per garantire maggiore chiarezza interpretativa, recependo formulazioni formatesi nella prassi applicativa e giurisprudenziale maturata nel tempo. Di particolare interesse risultano le definizioni di emittente televisiva e di soggetto politico. Per quanto concerne la definizione di soggetto politico da leggere in combinato disposto con i criteri di monitoraggio dei programmi di informazione declinati al successivo titolo secondo, la stessa tiene conto dell'esigenza di assicurare un'efficace tutela del pluralismo considerando anche quei soggetti che pur non rappresentati in Parlamento partecipino attivamente alla vita politica assumendo iniziative degne di nota. Quanto alla definizione di emittente televisiva essa mira a chiarire che le norme da emanare sono applicabili non solo alle emittenti ex analogiche ma anche ai canali nativi digitali che fanno informazione a prescindere dalla piattaforma trasmissiva utilizzata superando di fatto quel disallineamento terminologico e tecnologico imputabile a lungo intervallo temporale che c'è stato tra i due interventi legislativi quello della legge 28 del 2000 e quello del testo unico del 2005 integrato e modificato nel 2010 con il cosiddetto decreto romani. Il titolo secondo relativo alle emittenti televisive e radiofoniche nazionali è composto dagli articoli da 3 a 13 suddivisi in capi e sezioni. Il capo secondo è dedicato ai programmi di informazione nell'ambito della tipologia di programmi in cui possono prendere parte i soggetti politici la legge opera una distinzione tra i programmi di comunicazione politica classiche tribune elettorali nei quali gli spazi sono ripartiti secondo rigide media aritmetiche il cosiddetto equal time rule in ossequio al principio della parità di accesso di tutti i competitori politici e dall'altra parte i programmi di informazione ai quali si applica il principio della parità di trattamento. E la stessa legge 28 del 2000 ha prevedere che il criterio aritmetico di ripartizione degli spazi propri della comunicazione politica non si applichi alla diffusione di notizie nei programmi di informazione e tale interpretazione è stata più volte ribadita dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza amministrativa. La comunicazione politica genere sul quale il legislatore del 2000 aveva costruito il baricentro della legge sulla par condicio rappresenta ormai uno strumento di informazione residuale. I dati di ascolto evidenziano una scarsa attenzione del pubblico verso questa tipologia di programmi. Di contro è cresciuta l'attenzione del pubblico per i telegiornali e per i programmi di approfondimento che prendendo le mosse da fatti di attualità si esplicano attraverso format di vario tipo che attraggono l'interesse del pubblico per il tipo di confronto proposto. Al riguardo si segnalano due elementi di novità. La previsione di una verifica quadrimestrale d'ufficio sul rispetto del pluralismo da parte dei telegiornali vincolata a scadenze predeterminate e l'eliminazione del cosiddetto periodo pre-elettorale. I quadrimestri sono individuati con riferimento all'anno solare a partire dal primo gennaio di ciascun anno. Quanto al periodo pre-elettorale una delle principali criticità registrate nell'applicazione della disciplina recata dalla delibera 2206 CSP è stata quella di individuare con certezza exante l'inizio del periodo pre-elettorale coincidente con i 30 giorni che precedono l'indizione dei comizi in caso di elezioni politiche e in particolare in caso di scioglimento anticipato delle camere. Nel testo proposto quindi viene meno ogni riferimento al periodo pre-elettorale stante la sua indeterminabilità. Tuttavia nella consapevolezza della razio sottesa alla previsione elaborata nel 2006 nel testo presentato è previsto che qualora nel corso del quadrimestre abbia inizio una campagna elettorale per una consultazione nazionale il quadrimestre medesimo si considera concluso alla data della convocazione dei comizi con la precisazione che l'autorità effettuerà la valutazione di tale periodo prima dell'avvio della campagna. Circa i criteri di valutazione lo schema di regolamento prevede che l'autorità effettui la valutazione del rispetto del pluralismo politico nei telegiornali prioritariamente con riferimento al tempo di parola complessivamente fruito da ciascun soggetto politico istituzionale nei telegiornali diffusi da ciascuna testata nel periodo considerato. La verifica è finalizzata ad accertare l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e il rispetto del principio di parità di trattamento tra forze politiche tenuto conto del consenso elettorale conseguito alle più recenti elezioni politiche nazionali nel rispetto dell'autonomia editoriale giornalistica e dalla correlazione dell'informazione ai temi di attualità e di cronaca. Ai fili della decisione l'autorità tiene conto quale fattore sussidiario di valutazione anche del tempo di notizia. L'autorità ha ritenuto che il tempo di parola in quanto tempo fruito direttamente dal soggetto politico senza alcuna intermediazione giornalistica costituisca l'elemento più oggettivo per effettuare una corretta valutazione del pluralismo mentre il tempo di notizia rappresenta solo un criterio sussidiario di valutazione. Quest'ultimo infatti misurando il tempo dedicato a ciascun soggetto politico dal conduttore del telegiornale e dai giornalisti è espressione della linea editoriale del notiziario attraverso la quale si realizza l'autonomia editoriale dell'emittente a tale autonomia in quanto manifestazione della libertà di espressione di cui all'articolo 21 della costituzione la corte costituzionale ha sempre riservato particolare attenzione nel testo proposto il tempo di notizia riveste una rilevanza pari al tempo di parola in due fatti specie allora quando nel periodo oggetto di valutazione i notiziari diffusi dalla testata monitorata hanno assicurato a tutti i soggetti politici un tempo di parola complessivamente molto esiguo comunque non superiore a dieci minuti o nessun tempo di parola oppure secondo caso in relazione a forze politiche le quali pur avendo partecipato alle ultime consultazioni nazionali non hanno superato la soglia di sbarramento ai fini delle valutazioni del rispetto della parità di trattamento lo schema di regolamento introduce il nuovo criterio mutuato dalle esperienze di altri paesi europei del consenso elettorale conseguito alle ultime elezioni politiche con riferimento all'edizione dei telegiornali oggetto della verifica lo schema mantenendo la norma vigente considera il dato relativo a tutte le edizioni dei notiziari andate in onda nell'arco di ciascuna giornata di programmazione la previsione appare coerente con l'esigenza di assicurare rispetto dell'autonomia editoriale della testata vi è più in considerazione del fatto che si tratta di periodo non elettorale rispetto al quale la legge 28 non fornisce alcuna indicazione in materia di informazione inoltre essa appare rispondente al mutamento editoriale intervenuto nei formats dei programmi di informazione oggi l'informazione politica viene diffusa sia dalle reti generaliste attraverso le diverse edizioni dei telegiornali sia dai canali tematici sia dai canali all news che diffondono notizie con un rullo in costante aggiornamento inoltre attraverso le nuove tecnologie le edizioni dei telegiornali possono essere riascoltate anche a distanza di tempo e fruite online attraverso le apps degli smartphones il che rende complessa l'attività di verifica sul rispetto del pluralismo svolta secondo canoni tradizionali risalenti all'adozione della legge 28 del 2000 occorre tenere presente a tale riguardo anche la difficoltà di effettuare valutazioni sul pluralismo dell'informazione in mancanza di parametri quantitativi predefiniti dalla legge parametri che allo Stato sussistono in maniera esplicita solo per i programmi di comunicazione politica come regolare modalità e tempi dell'accesso nei programmi di informazione alla luce del cambiamento dei media l'ampliamento dei canali derivanti dall'uso della tecnologia digitale e il ruolo assunto da internet sicuramente concorrono ad assicurare una più effettiva partecipazione di tutti i soggetti politici all'informazione politica ma l'esigenza di assicurare un'efficace tutela del pluralismo resta insuperabile ancorché essa si atteggi oggi in maniera diversa in assenza di precise indicazioni a livello di legislazione primaria l'autorità sulla scorta dell'esperienza maturata ha ritenuto di chiarire nel testo proposto che il punto di partenza di ogni valutazione sul rispetto del pluralismo politico istituzionale non può che essere un criterio di tipo quantitativo rilevazione del tempo di parola fruito dal soggetto politico mitigato tuttavia dal ricorso anche a criteri di tipo qualitativo ad esempio attualità nella cronaca agenda politica presenza di un contraddittorio format del programma cadenza temporale inoltre vengono introdotti una serie di parametri di tipo qualitativo elencati in ordine decrescente di rilevanza da struttura del programma a modalità di partecipazione degli ospiti politici periodicità del programma numero complessivo di puntate trasmesse nel ciclo modalità di conduzione del programma che concorrono ad assicurare una valutazione più rispondente alla realtà editoriale il titolo il titolo terzo articoli da 14 a 21 è dedicato all'emittenza radiofonica e televisiva locale come noto con la legge 313 del 2003 sono state introdotte nella legge 28 norme specificatamente dedicate all'emittenza radio televisiva locale privata astante l'esigenza di prevedere per tale comparto una disciplina più flessibile e meno rigorosa in materia di par condicio il quadro normativo è stato completato dal codice di autoregolamentazione approvato con decreto ministeriale dell'8 aprile 2004 il quale detta disposizioni specifiche in materia di informazione comunicazione politica e messaggi autogestiti sia per il periodo elettorale che per quello non elettorale nello schema di regolamento proposto viene quindi fatto rinvio alle norme del codice infine il titolo sesto reca le disposizioni procedurali particolare attenzione è stata prestata alla fase di impulso al procedimento per la quale è previsto un doppio canale di attivazione l'iniziativa d'ufficio dell'autorità ovvero la denuncia da parte di ciascun soggetto politico interessato in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa sono stati declinati in modo rigoroso i requisiti di procedibilità e ammissibilità della denuncia di parte anche con specifico riferimento ai termini perentori entro i quali la medesima deve essere presentata e cioè 30 giorni dalla realizzazione del fatto lesivo l'obiettivo è quello di evitare azioni pretestuose o meramente dilatorie come ho anticipato la proposta ha costituito oggetto di un ciclo di audizioni disposto dall'autorità con i soggetti direttamente interessati in chiusura quindi ritengo opportuno richiamare l'attenzione della commissione sui principali elementi di criticità messi in luce dai soggetti intervenuti taluni dei quali offrono interessanti spunti di riflessione la maggior parte dei soggetti ha sollevato dubbi in merito alla legittimazione dell'autorità a regolare i programmi di informazione in periodo non elettorale in particolare è stato evidenziato che le limitazioni previste dalla legge 28 del 2000 al diritto di informazione e cronaca costituzionalmente garantiti possono giustificarsi solo nei periodi interessati dalle campagne elettorali in relazione alla necessità di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto ai diversi soggetti politici una disciplina così penetrante non trova però giustificazione nei periodi non elettorali e in assenza di specifiche disposizioni normative di livello primario essa può costituire una restrizione non giustificata alla libertà di manifestazione del pensiero ed alla libertà editoriale delle emittenti alcuni soggetti hanno poi evidenziato come lo schema di regolamento recchi previsioni più limitative di quelle fissate dalle precedenti delibere dell'autorità determinando di fatto un'assimilazione delle emittenti privati alla concessionaria pubblica sotto il profilo dei vincoli in materia di pluralismo senza tenere nella dovuta considerazione le differenze esistenti inoltre diversi soggetti hanno rilevato una inadeguatezza della regolamentazione proposta al mutamento intervenuto nel settore dei media evidenziando che la televisione non è più l'unica fonte di informazione del pubblico e nemmeno il mezzo di informazione più pervasivo secondo questi soggetti una disciplina della par condicio incentrata sulle emittenti televisive poteva trovare giustificazione nell'ottica del legislatore del 2000 a causa della sostanziale limitazione delle risorse frequenziali e dunque del limitato numero di emittenti concessionari il nuovo regolamento pertanto dovrebbe essere l'occasione per l'avvio di un processo di adeguamento della normazione secondaria al mutato panorama dell'informazione caratterizzato da una proliferazione di media di mezzi tecnici di strumenti di fruizione e di nuove fonti di informazione quali i siti internet in maniera pressoché unanime i partecipanti alle audizioni hanno sollevato dubbi in ordine nei criteri di valutazione individuati con specifico riferimento al tempo di parola al tempo di notizia e al consenso elettorale suggerendo di prevedere criteri di ordine qualitativo e non quantitativo ricorrendo a questi ultimi eventualmente in via sussidiaria i rappresentanti di alcuni canali tematici tipo all news hanno poi sottolineato che l'informazione nel loro caso rappresenta un unicum insuscettibile di essere scomposto e dunque separatamente valutato sulla base di una distinzione tra tipologie di programmi in merito al consenso elettorale è stato contestato il riferimento anche a quelle forze politiche che pur avendo partecipato alle ultime elezioni non abbiano superato la soglia di sbarramento e alle forze politiche che si costituiscono successivamente allo svolgimento delle elezioni politiche ciò in quanto questo ampliamento dei soggetti politici contribuirebbe a frustrare la qualità dell'informazione e del suo legame con il criterio di attuazione e di interesse pubblico delle notizie queste in sintesi sono le norme che abbiamo proposto e le osservazioni che abbiamo ricevuto si tratta pertanto di individuare una metrica ragionevole e proporzionata per l'informazione volta ad adeguare il sistema della par condicio a un mondo di media in profonda trasformazione dove convivono emittenti generalisti canali tematici canali on news e da ultimo internet naturalmente il confronto con tutti i loro rappresentanti della commissione costituirà per l'autorità un momento di importante riflessione in merito alle questioni di cui ho fatto cenno nel corso del mio intervento questa relazione è stata consegnata prima al segretario e credo che potremmo aggiungere la conferma della dottoressa Liberatore questo appunto sul periodo elettorale che costituisce una prima riflessione basata in parte sui risultati sul comportamento delle elezioni europee appena svolte quindi abbiamo raccolto dei dati sulle quali sono basate alcune riflessioni in ogni caso una revisione della parte sul periodo elettorale seguirà dopo aver sistemato definitivamente questa parte grazie per la loro attenzione grazie quindi poi questo lo protocolliamo e lo mandiamo e ci sono interventi richieste di caramenti osservazione Boemi prego interessante questo ragionamento intorno al tempo della parola tempo della notizia sul tempo della parola io credo che non ci sia molto da dire in quanto il soggetto preso in considerazione si esprime con le capacità le modalità che ritiene sul tempo della notizia invece noi passiamo attraverso la mediazione di colui che dà la notizia io qualche ora fa ho sottoposto al presidente della commissione di vigilanza un fatto che lo cito perché mi interessa direttamente ma perché è sintomatico di una modalità sulla quale io chiederei una riflessione dell'autorità garante nel il tribunale di Torino ha condannato lunedì quattro esponenti politici ex consiglieri regionali a seguito delle vicende di rimborsopili i quattro soggetti e gli altri venticinque diciamo rinviati a giudizio venivano trattati in questa maniera per i primi tre veniva citato nome cognome e sanzione applicata per il quarto veniva citato nome cognome sanzione applicata e la ex appartenenza a una forza politica di circa vent'anni fa mentre veniva omessa per le tutte e quattro le persone trattate l'attuale appartenenza alla forza politica diciamo di oggi ora questo tipo di notizia dal punto di vista della sua concretezza del fatto è evidente che è corretta perché questi quattro soggetti sono stati condannati eccetera l'omissione dell'appartenenza dei primi tre e la introduzione di una ex appartenenza senza citare l'appartenenza attuale ha creato evidentemente un danno di immagine al soggetto politico al soggetto associativo politico che fa riferimento alla diciamo all'appartenenza di vent'anni fa ora ecco questo tipo di comportamento lo dico all'autorità garante come può essere diciamo preso in considerazione ribadendo che qui non c'è un problema di non notizia c'è un problema di cattiva notizia cioè di notizia non data nei termini oggettivi perché se la citazione dei quattro fosse questi appartenevano e oggi appartengono oppure oggi appartengono senza citare la ex appartenenza tutto andava liscio ma l'utilizzo di un solo soggetto per colpire indirettamente una forza politica a mio avviso deve essere elemento di riflessione dell'autorità garante perché nulla questa sulla informazione ma c'è la necessità che l'informazione non soltanto dal punto di vista dei tempi ma della qualità debba rispondere adeguatamente la prima questione è questa la seconda in considerazione che faccio è che il periodo elettorale ritengo scarsamente interessante al fino della produzione di un'opinione pubblica informata correttamente informata le questioni principali si giocano non in campagna elettorale ma si giocano nei periodi precedenti che oggettivamente sono più lunghi più diciamo che colpiscono in maniera diciamo meno propagandistica i soggetti destinatari ma che invece colpiscono in maniera continuativa perché un'informazione parzialmente mitigata definiamo la cosiddetta perché produce opinioni sicuramente più solide nel tempo e l'altra questione è quella relativa a come si può garantire il pluralismo delle idee lei in parte l'ha toccato questo argomento nei confronti di quei soggetti che sono esclusi dalla rappresentanza politica in base a diciamo tecniche elettorali che sostanzialmente introducono sbarramenti naturali e artificiali e attraverso premi di maggioranza che ovviamente scompensano il dato oggettivo del consenso perché c'è un consenso di voti e una rappresentanza non senza non sempre il rapporto tra voti e rappresentanza è diciamo lineare come valutare ovviamente la differenza la differente qualità dei contenuti l'ho già evidenziato prima e poi come si può trattare la informazione palesemente distorta prescindendo dai procedimenti di diffamazione e quant'altro cioè quella informazione che è diciamo che sono mezze verità o che pure sono fatti taciuti che sono hanno rilevanza di notizia in una diciamo corretta attività professionale del comunicatore ma un comunicatore un po' mistificatore ovviamente omette o introduce grazie grazie presidente è una materia sinceramente che non vi invidio assolutamente perché è assolutamente ingestibile innanzitutto io che ho vissuto fin dal 77 il mondo dell'emittenza locale prima radiofonica poi televisiva ho vissuto tutte le fasi della par condicio completamente vista da un altro punto di vista e però qui devo dire una cosa noi qua siamo in commissione di vigilanza Rai quindi qui noi dovremmo parlare di quello che è la par condicio primariamente del discorso Rai il discorso dell'emittenza televisiva radiofonica nazionale e locale è un problema estremamente interessante che va affrontato il mio modesto parere in questo senso è che laddove esista pluralità di informazione andrebbe abolita totalmente nel senso che nelle aree geografiche dove non ci sono delle posizioni palesemente dominanti ma ci sono ormai siti internet televisioni radio quotidiani obiettivamente è impossibile che tutti dove c'è pluralità vera il problema della par condicio non esiste noi siamo stati tutti coinvolti nella par condicio per colpa di Berlusconi cioè il problema è venuto fuori quando un soggetto politico aveva tre televisioni nazionali che facevano 40% 48% di share e nello stesso tempo era un soggetto politico che andava alle elezioni io mi ricordo i dibattiti ai tempi mi ricordo Marco Pannella che quando si iniziava a parlare di par condicio gli chiedete in un incontro a Genova dove aveva fatto una manifestazione se era vero che non ha idea quello che accadrà ci furono dei periodi dove la par condicio vietava totalmente tutto tanto che avvenne un fatto estremamente negativo l'emittenza televisiva locale di tutto il paese io ai tempi ero vicepresidente nazionale dell'associazione FRT non fece campagna elettorale per paura di essere sanzionata quindi invece che informare sul territorio decisero di non fare campagna perché c'era il terrore di essere multati ma ribadisco quindi secondo me par condicio dovrebbe essere abolita in tutti i territori dove esiste una vera pluralità di informazione va riconosciuta solamente dove ci sono le posizioni fortemente dominanti nel caso io devo dire l'emittenza televisiva nazionale ma tanto più quando ci sono dei conflitti di interesse ovviamente pesanti come quelli che ci sono in talunni casi ma oggi qui dobbiamo parlare specialmente di una cosa che c'è una netta differenza dall'analisi della par condicio quando sei un servizio pubblico e comunque quando sei invece una realtà privata quella che noi andiamo a trattare qui oggi è ovviamente quella della RAI e questo è il problema drammatico cioè purtroppo fanno i furbi in RAI cioè la gestione della RAI dei giornalisti ormai di chi fa le regie cioè è capace di ci sono mille modi per aggirarla e questo il problema è alla base cioè in RAI dovrebbe essere c'è una coscienza un'etica che non consente assolutamente di fare i furbi io ho portato l'esempio e ho fatto anche un esposto cioè i 15 minuti di pubblicazione del banner durante le immagini di mettendo le immagini di Renzi con Obama di Obama con il Papa e quando c'è fu la visita appunto del Presidente degli Stati Uniti e per 15 minuti consecutivi il banner su RAI con scritto Renzi impressionato della visione del Papa e c'erano frasi veramente i testimoni diventavano Obama e il Papa praticamente di Renzi quello non è previsto queste sono le furbate che io non so in quale modo voi riuscirete a risolvere sulla parcondicio a livello territoriale beh pensi che io ho iniziato a fare politica nel gennaio del 2013 non sono mai stato citato invitato in la rete regionale cioè non faccio denunce perché intanto è inutile però per dire come diventa soggettivo dei giornalisti che sono antipatico ne avranno anche tutte le motivazioni non dico di no però ovviamente è loro non è che c'è ora è la RAI che deve cercare di fare trasparenza e parità di trattamento o bisogna sempre solamente attivarsi con delle denunce ecco nel servizio pubblico di oggi ed eventualmente nel servizio pubblico di domani qualora ci siano differenze ci saranno altri soggetti a cui viene riconosciuto di essere servizio pubblico secondo me quelle devono essere tenute strettamente ad una par condicio oggi peraltro a par condicio io vorrei capire come voi pensate sulle tribune elettorali io sono per l'abolizione totale ovunque sono inutili non fanno ascolti sono narcisismo proprio perché non portano nulla già dagli orari di trasmissione la par condicio entra unicamente in modo pesante solamente nei programmi nei telegiornali e nei programmi che sono quelli che poi si dice che si rifanno al periodo che si rifanno la testata giornalistica e come giustamente diceva Bohemi è tutta la preparazione a una campagna elettorale io porto l'esempio se sappiamo che l'anno prossimo si andrà alle elezioni regionali in taluna regione da adesso siamo già in campagna elettorale la gestione di questi spazi il decidere di privilegiare determinati soggetti in confronto ad altri è già pienamente campagna elettorale quindi è falso che i tre periodi fino a convocazione dei comizi elettorali poi tra la convocazione e la presentazione di lista e poi quindi è certo e devo dire che ne ho discusso più di una volta perché anche con l'amico Rognoni non sapeva che esisteva la par condizione nel periodo non elettorale e infatti taluni partiti come ad esempio il partito democratico non dico assolutamente per polemica è furbo molto furbo a fare ad esempio le primarie e nessuno sa che quando ci sono le primarie del PD o quando c'è una festa dell'unità dove loro molto intelligentemente si invitano i grandi personaggi e tutti i giorni sono sull'emittente nazionale quel tempo dovrebbe essere parificato a tutti gli altri partiti perché eh? e non viene mica fatto eh no bravo bravo tu dici quello ma non è questo non è il fatto se uno fa o non fa la par condizione è assoluta lo stesso è l'abilità ad esempio oggi di avere un presidente del consiglio contestualmente segretario del partito come viene tarato quest'altro spazio cioè io non so come farete però sinceramente credo che non sono riuscito a leggere il documento perché oggi eravamo in aula tutto il giorno credo che come commissione questo si debba aprire obiettivamente un dibattito tra di noi per vedere che suggerimenti ragionandoci in qualche riunione possiamo dare a voi che avrete poi questo arduo compito sì noi il dibattito comunque è chiaro che sarà aperto oltretutto poi faremo un percorso per approvare una delibera proprio sulla par condice in periodi non elettorali Airola grazie sarò anch'io molto breve rispettando questa comune diciamo sintesi allora sì come dico i colleghi il problema qua è che si sta cercando di risolvere una serie di violazioni con degli strumenti coercitivi di controllo quando probabilmente servirebbe una legge antitrust una legge sul conflitto di interessi sull'editoria servirebbe che i giornalisti rispettassero semplicemente il loro codice ideontologico servirebbe che la politica non fosse così invasiva di tutti i media ecco allora il problema è che noi stiamo cercando di trovare degli strumenti impropri per fronteggiare qualcosa che è uno tsunami una marea cioè non saranno mai adeguati questi strumenti mi è interessato molto l'appunto che avete fatto sulla distinzione quantitativa qualitativa certo che sul qualitativo bisogna veramente capire che criteri si vogliono identificare applicare perché io ho una formazione anche in parte semiologica e giornalistica non saprei veramente dove andare a sbattere la testa appunto ci sono diverse questioni per esempio la questione anche dell'all news l'all news è sicuramente un modo di fare notizia che è emerso in questi anni che anche quello è forse anche improprio perché o perlomeno improprio mi pare più per come lo farà i news nel senso ho notato che da re news e non solo io l'ho notato sono spariti dei programmi dei servizi di approfondimento allora quando la notizia è una ripetizione e quindi vince la ripetitività sul contenuto spesso o sulla capacità anche di focalizzare l'attenzione allo spettatore sempre un po' una radio la televisione spesso mi riferisco prevalentemente a televisione però e io ripeto costantemente delle notizie perdo poi alla fine magari l'attenzione per i dettagli delle notizie mi restano solo alcuni punti quello è un meccanismo di disinformazione che spesso viene attivato quando si fa in malafede ovviamente però ecco lì forse recuperare dei sistemi per interrompere la ripetitività più o meno ci sono però andando ad approfondire le notizie è sicuramente più facile recuperare diciamo un equilibrio un'imparzialità nei limiti ecco però voglio dire queste poi sono ripeto più valutazioni sul sistema che poi nel merito dei contenuti anche sulla questione del vorrei avere qualche delucidazione delle sanzioni ma a me è capitato di fare un esposto all'agicom l'anno scorso proprio nel periodo di novembre perché la presenza del Movimento 5 Stelle era bassa eccetera eccetera mi era stato risposto sì in effetti avevamo rilevato delle alterazioni però poi le cose sono migliorate eccetera eccetera oppure è successo con il premio Renzi in capa elettorale l'agicom si era espressa su una più casi di sovraesposizione ecco allora le sanzioni andrebbero probabilmente applicate il più fretta possibile cioè poi io anche lì capisco che per avere un quadro bisogna avere un intervallo di tempo T però forse quattro mesi non so poi forse tanto ecco perché potrebbero succedere nel frattempo avete detto che fate un monitoraggio globale ecco oppure intervenire prima perché appunto soprattutto in certi periodi quando si fa il danno poi è molto difficile in qualche modo riuscire a recuperare ecco l'ultima cosa poi chiudo la rappresentanza cioè le percentuali considerate di rappresentanza dei gruppi politici non più sulla presenza in Parlamento a quanto ho capito ma sulle percentuali delle ultime politiche ecco questo il consenso elettorale ecco quindi se mi delucidate solo questo punto perché trovo che sia giustissimo perché era ovviamente viziata da una legge incostituzionale il premio di maggioranza eccetera eccetera e soprattutto vorrei capire se questo anche in periodo non in periodo elettorale quindi sarà un criterio applicato sempre alla luce di questo se è così già adesso ci sono degli sproporzioni mostruose e per non fare sempre il solito Movimento 5 Stelle che è sottoesposto dico che per esempio il nuovo centrodestra attualmente ha delle percentuali guardavo l'osservatorio di Pavia l'altro giorno veramente miserevoli così come altre forze politiche grazie 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 Presidente voglio ringraziare anch'io il Presidente Cardani per la relazione che ci ha illustrato in larga parte per i testi che ci ha consegnato che per noi sono materiali di rilievo per incardinare nel modo più corretto il percorso che abbiamo auditivo prima e poi per formulare il parere della vigilanza nel meccanismo di consultazione con l'Agicom rispetto allo schema di regolamento lo hanno detto i colleghi commissari è materia particolarmente delicata e complicata quindi credo sia importante che ci sia da parte di questa commissione un percorso fatto di audizioni e fatto di approfondimenti sui testi che ci sono stati forniti credo che ci siano alcune questioni che sono state messe in evidenza che possono essere già oggetto questa sera di una primissima occasione di confronto intanto la considerazione che è la base dello schema di regolamento stesso sia che la normativa sulla parcondici sui regolamenti applicativi siano disciplina datata in relazione ai mutamenti di scenario credo che questa sia una considerazione ampiamente condivisa ho visto che il presidente Cardani ci offre un'interpretazione di questo elemento di una disciplina datata intorno a due questioni la prima quella di un oggettivo mutamento di quadro politico di un tendenziale superamento del bipolarismo fondato su due coalizioni incardinate intorno a due soggetti politici i risultati delle politiche dello scorso anno hanno indicato un assetto che poi è stato in parte confermato dall'Europa seppure con valori diversi di tendenzialmente non due ma tre soggetti politici più oltre una presenza di altri partiti questo è l'attuale configurazione io non so se questo è l'elemento di evoluzione definitiva del quadro politico può darsi che questo sia un passaggio intermedio verso una reaggregazione nella quale immagino che la legge elettorale che verrà approvata e immagino anche le riforme istituzionali avranno un'incidenza come sempre hanno le regole rispetto agli assetti quindi intorno a questo primo elemento credo che quantomeno sia una fase di passaggio dove sia ancora difficile scattare un'istantanea che sia un'istantanea che possa durare nel tempo può darsi di sì ma può darsi anche di no può darsi che ci riconduciamo ad un assetto compiutamente bipolare basato su coalizioni o invece ci sia una tendenza ad una loro maggiore frammentazione quindi questo credo sia intanto un elemento soggetto a confronto a dubbi a rilì il secondo argomento è legato del mutamento di scenario all'innovazione del sistema dei media con l'impatto del digitale in termini di opportunità di pluralità di offerta che diventa canali tutte le considerazioni che sono state fatte che mi trovano assolutamente d'accordo credo che questo sia l'elemento di mutamento di scenario di maggior rilievo di maggiore impatto nel quale si inseriscono anche degli elementi di novità che oggettivamente prima non erano presenti sono stati richiamati dal presidente Cardani anche da altri commissari pensiamo per esempio ai canali all news che hanno una configurazione e una stretta connessione tra l'offerta legata all'informazione e la stretta attualità che deve avere l'informazione stessa quindi è difficile pensare di operare in termini di compensazione e riequilibri su un dato che non può che essere legato all'attualità quindi questo è un elemento di ulteriore complicazione di ulteriore difficoltà così come è evidente che l'impatto di internet complessivamente ma in termini di informazione basta pensare i numeri che hanno l'accesso che hanno i principali siti di informazione e quindi quanto incidano e in periodo elettorale e in periodo non elettorale alla possibilità di informarsi legato alla competizione elettorale non solo dei cittadini hanno spesso dei numeri di gran lunga superiore al numero delle copie cartacee vendute o di diffusione così come sempre sui siti internet è evidente che è più difficile una perimetrazione pensiamo per esempio alla questione dei sondaggi vietati negli ultimi 15 giorni ormai ci siamo abituati a tornate elettorali dove prima questi stessi sondaggi erano disponibili magari su siti che non avevano domini italiani registrati in Italia o adesso l'ultima evoluzione è quella del mascheramento dei sondaggi legati a conclavi o a gare ipiche o quant'altro però quanto effettivamente sia di fatto aggirato un elemento che invece è un suo forte elemento di certezza in ragione di questi mutamenti gli strumenti previsti dalla normativa vigente per quanto riguarda la comunicazione politica sono d'accordo anch'io che qui dobbiamo andare un po' al consuntivo dell'esperienza guardando cosa hanno significato e che cosa significano in termini di ascolti da questo punto di vista ho dato un'occhiata velocissima al materiale che ci è stato offerto in riferimento alle ultime elezioni europee i dati di ascolto delle tribune elettorali non credo che si discostino molto le precedenti politiche o altri mi sembra che i dati indichino come questo sia uno dei strumenti di minore accesso all'informazione per quanto riguarda la configurazione dell'orientamento elettorale quindi credo che questo sia un elemento per quanto riguarda i telegiornali che poi è la parte più delicata mi sembra che lì il monitoraggio sia legato all'intera giornata giusto su questo per esempio è utile capire perché era stato un elemento di discussione che abbiamo avuto nel momento in cui abbiamo fatto il regolamento per l'europea era oggetto anche di una serie di emendamenti se il monitoraggio non debba essere fatto per fasce orarie nel senso che è evidente che il telegiornale senza andare nello specifico della rete della sera ha un rilievo assolutamente diverso rispetto a quello della notte o quello del primo mattino quindi da questo punto di vista se poi il riequilibrio viene fatto su quello del mattino rispetto a quello della sera è evidente che la discrasia permane per questo voglio capire se l'idea era quella anche del monitoraggio per fasce per quanto riguarda i programmi di informazione in cui ovviamente si applica il principio di parità di trattamento devo dire che ho guardato con attenzione avendo ascoltato il professor Cardani anche alla parte della relazione dove si fa riferimento alle audizioni e devo dire che alcuni dei dubbi che sono riferiti rispetto ai soggetti auditi in termini di estensione al periodo non elettorale sul programma di informazione sono dei dubbi che anch'io comprendo avverto e credo che siano materiali su cui è necessario un ulteriore approfondimento lo dico perché per esempio l'idea cui si è fatto riferimento di puntare al riequilibrio comunque il conteggio comprensivo sul ciclo del programma nel corso dell'intera stagione per alcuni programmi secondo me ha un senso una sua applicazione per altri è più complicato lo dico perché per esempio era stato oggetto di una precedente audizione del presidente Cardani forse un anno fa più o meno esatto perché ricordo era di attualità più o meno di quei giorni di quelle settimane perché era stato un ricorso di un commissario del presidente Brunetta a cui poi ha corrisposto una delibera dell'autorità rispetto a due programmi che erano Fazio e l'annunziata che prevedono l'annunziata soprattutto il singolo ospite dove la delibera prevedeva il riequilibrio che significava però di fatto fare il palinsesto per il resto della stagione di quel programma poi ho visto che l'azienda Rai aveva fatto ricorso aveva vinto il ricorso eccetera ecco lo cito non per aprire una querela rispetto alla quale avevamo avuto l'occasione già di confrontarsi ma per dire che comprendo i dubbi sollevati perché per esempio questo è un esempio di quanto sia complicato invece altri programmi di informazione che hanno o la stessa cadenza o una maggiore frequenza o un maggior numero di ospiti comprendo più semplice il riequilibrio e il conteggio più complessivo ecco mi sono permesso Presidente e mi fermo qui di sollevare alcune questioni che mi venivano in mente ascoltando il Presidente Cardani e i commissari ritenendo come ho detto prima però che questa davvero si tratta dell'occasione per noi di incardinare la discussione quindi un primo momento di approfondimento che credo ci consenta anche di poter fare al meglio il nostro lavoro come garantire la presenza dei soggetti della pluralità dei soggetti non cioè in alcune trasmissioni si vedono sempre gli stessi personaggi ora è evidente che c'è una caratura politica in ogni personaggio e quindi questa questione questa ripetuta presenza basta guardare certe trasmissioni per dire ma questo qui tutte le sere che ci sta a fare quindi non è un elemento diciamo di rilevanza giuridica professore ma un elemento diciamo di buon gusto definiamolo così ecco vogliamo prendere l'autorità garante in grado di prendere anche in considerazione questo aspetto oppure no ecco domanda Fornaro brevissimamente un modo di approfondire ma avendo molto apprezzato l'approccio pragmatico della relazione della Gcom anche se devo dire per una volta sono totalmente d'accordo con il collega Irola è un tentativo complicato difficile ai limiti dell'impossibile diciamo provare a regolamentare una materia così complessa no volevo aggiungerne un elemento diciamo di ulteriore criticità nell'applicazione concreta pensando ovviamente inizialmente ci sono si pensa ai grandi canali nazionali ma c'è anche un tema di tv private locali e penso anche quindi a competizioni che non sono necessariamente quelle nazionali ma quelle regionali quindi si va in par condicio anche sulle regionali eccetera eccetera e qui in parte l'ha introdotto anche un altro collega esiste esiste anche una diversa strategia di comunicazione nelle campagne elettorali che pone le tv locali un problema al limite del paradosso e provo a spiegarlo non tutti i partiti hanno lo stesso radicamento e non tutti i partiti scelgono per esempio di organizzare eventi fisici convegni comizie all'interno delle campagne elettorali ci può essere quindi un partito che ha parità di peso eccetera eccetera decide di organizzare gli altri che decidono di fare cene quindi attività private la tv privata dovendo rispettare par condicio è in enormi difficoltà perché perché da questo punto di vista ne sono stato testimone si tengono fermi i servizi di cose che col punto passano poi la settimana dopo perché perché non ce ne sono altri diciamo nella logica bipolare che da Pelufo dall'altra parte da questo punto di vista non può esserci neanche una penalizzazione al contrario cioè se c'è c'è chi organizza quella è una notizia e la notizia va data poi si può discutere se quella notizia deve avere diciamo il tipo di rilievo la durata eccetera eccetera ma l'evento in sé è e deve rimanere una notizia ho introdotto questo elemento anche per diciamo e poi finisco per introdurre anche il fatto che dovendo riandare a mettere mani a questo tema dicevo come dicevo all'inizio complesso c'è anche tutto il tema dei tv locali non soltanto diciamo le grandi corporation e i grandi canali nazionali che comunque hanno soprattutto nelle elezioni diciamo di livello non nazionale un peso e un'importanza non secondario in molte realtà possono determinare o comunque essere avere una capacità di orientamento dell'opinione pubblica molto significativa Rossi velocemente brevissimamente la parte internet non è compresa però mi chiedo visto che qui siamo in commissione vigilanza RAE la parte internet privata è un discorso ma la parte internet del servizio pubblico secondo me è una cosa totalmente diversa e quindi secondo me dobbiamo valutare se la parte internet del servizio pubblico pagato da tutti i cittadini invece non debba rientrare per una per una decisione anche della stessa commissione della RAE che non può la parte internet del servizio pubblico pagata con i soldi del servizio pubblico dei cittadini essere fuori dalla par condice prego presidente guardare chiederei all'amico e collega Martuscello di prendere una parte se lei mi permette e io intanto finisco di prendere appunti e rispondere a qualcosa io risponderei al senatore Boemi dunque lei ha correttamente posto la questione del tempo di notizia e io non posso che richiamare però i principi che si applicano ai programmi di informazione che sono principi generali che riguardano l'obiettività la completezza e il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione che certamente in periodo elettorale devono essere osservati in maniera molto più rigorosa ma che evidentemente come si vince anche poi dal tenore dell'articolo 5 della legge 28 di fatto è l'unica norma quella che regola e che la stessa legge dedica all'informazione quindi diciamo che siamo in un terreno abbastanza ampio e abbastanza diciamo così non molto rigoroso dove però esiste un tema che è quello del diritto di rettifica è evidente che se la notizia fosse palettamente falsa evidentemente ci sarebbe la possibilità di intervenire con la richiesta di rettifica altrimenti la legge 28 si ferma a quelli che sono i principi generali la seconda questione che lei ha posto è quella del diciamo così del meccanismo di valutazione del consenso elettorale e quindi della riforma elettorale che ha istituito il premio di maggioranza l'autorità ha ritenuto che in un sistema democratico la misura del consenso elettorale fosse la più significativa espressione della volontà popolare e di conseguenza il più corretto parametro di riferimento appunto di quel pluralismo interno che è quello che poi dopo ci interessa approfondire e che è l'elemento fondante attraverso il quale noi facciamo la verifica della part condition proprio per questo riteniamo che questo meccanismo cioè quello della valutazione del consenso elettorale sia proprio quello che consenta alla forza politica di avere voce in misura promozionale rispetto a quello che è stato il numero degli elettori che hanno con il proprio voto dato quel tipo di consenso abbiamo però tenuto conto poi successivamente in una fase evidentemente elettorale noi teniamo conto di valutazioni ovviamente di tipo diverso che danno la necessità per quel che riguarda la comunicazione politica evidentemente di avere lo stesso livello di comunicazione per quel che riguarda l'informazione tutta una serie di criteri che noi abbiamo mutuato e che abbiamo appreso diciamo così da quella che è la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa che ci ha indotto a fare determinate scelte nel corso degli anni l'ultima questione è quella che riguarda la presenza di alcuni soggetti politici anziché altri è chiaro che questo appartiene all'autonomia editoriale noi possiamo garantire la presenza del soggetto politico in quanto partito ma non possiamo pensare che un determinato personaggio politico debba andare in video anziché al posto di un altro perché questo non ci è consentito dunque il donorevole Airola ha posto delle questioni che sono molto rilevanti che sono poi diciamo così quelle sulle quali anche il Tar ci ha chiamato a dare una valutazione la questione dell'ordine qualitativo rispetto alla valutazione quantitativa che noi abbiamo sempre fatto è chiaro la valutazione quantitativa è quella diciamo così voglio usare un termine un po' forte scientifica nel senso che noi applichiamo dei rigidi criteri dei parametri diciamo così abbiamo in qualche misura risolto una questione che è quella di garantire lo stesso livello di accesso al mezzo televisivo quindi la stessa opportunità di poter comunicare tutti quanti allo stesso modo la questione di ordine qualitativo è una questione che si pone alla luce della sentenza del Tar che veniva richiamata prima la sentenza del Tar che riguarda appunto un provvedimento che noi abbiamo fatto nei confronti di due trasmissioni televisive quella che è condotta dall'annunziata e dall'altra condotta da Fazio e quale la RAI diciamo in questo momento vince nei confronti dell'autorità al Tar e noi abbiamo evidentemente fatto ricorso al Consiglio di Stato perché il giudice ritiene che la valutazione debba essere di ordine qualitativo ma è chiaro che questo espone ad una miried diciamo così di valutazioni che sono assolutamente soggettive e che un'autorità come la nostra non si può consentire di fare perché queste valutazioni soggettive non stanno nello spirito della legge della par condicio la legge istitutiva prevede lo dicevo prima la parità di accesso al mezzo televisivo da parte delle forze politiche la stessa opportunità introdurre criteri qualitativi ovviamente è un auspicio e questo viene richiamato soprattutto dalle emittenti private nella consultazione che abbiamo fatto però è molto pericoloso perché potrebbe introdurre elementi lo ripeto di grande soggettività e di vischiosità nella valutazione soggettiva il commento generale sul quale vorrei iniziare è che è un mestieraccio e questo è ovvio ma è un mestieraccio purtroppo perché come del resto credo l'onorevole Pelufo stesse dicendo prima si intrecciano vari tipi di problemi i problemi molto banalmente il numero di soggetti politici da un lato e le diverse piattaforme che abbiamo oggi che non sono quelle che avremo nella prossima campagna elettorale perché sorgeranno sicuramente altri tipi di messaggistica e altri tipi di diffusione dell'informazione allora come ha già detto Antonio Martuscello l'atteggiamento più prudente è di utilizzare criteri tra virgolette inoppugnabili come appunto il tempo che è un qualcosa di misurabile con precisione e non espone a rischi di pretesa parzialità d'altra parte noi ci rendiamo anche conto che imponiamo ai direttori di testata degli obblighi che non sono anche da parte loro facilmente rispettabili prendiamo per esempio il caso di trasmissioni come quella che abbiamo appena menzionato della luce annunziata dove c'è un solo intervistato e altre trasmissioni come Ballarò per esempio dove c'è invece una larga platea di intervistati evidentemente chi conduce Ballarò ha una possibilità di composizione dei partecipanti è molto maggiore quindi quando si tratta poi di correggere su nostro stimolo delle tra virgolette parzialità immaginiamo precedenti ha una gamma di strumenti molto più ampia può combinare meglio chi invece come il format della trasmissione dell'annunziata a un solo personaggio per volta bene si verificano quelle situazioni come ricordate dall'onorevole Perufo prima in cui se noi interveniamo con un tipo di misura dicendo devi riequilibrare bene di fatto le imponiamo un palinsesto fisso fino alla fine della trasmissione diciamo intervenendo per salvare un principio importante come la parità di accesso e così via conculcando invece un altro principio importante come è la libertà di espressione e se vogliamo anche la libertà di scelta editoriale perché il giornalista che sia esso giornale o televisivo ha dei diritti di esprimersi che sicuramente noi non vogliamo conculcare contemporaneamente un direttore di testata che si trova a voler seguire con precisione le nostre norme si potrà trovare in obbligo in fase elettorale che è quella peggiore da un punto di vista della costrittività delle norme a suddividere il tempo a sua disposizione che non è infinito in 27-28 fettine di dimensioni diverse a seconda dei soggetti politici è un qualcosa di a parte che credo mortificante da un punto di vista professionale perché un giornalista con tutto rispetto che opera i salumieri non usa una affettatrice d'altra parte noi non possiamo ricorrere a strumenti diversi proprio perché il tempo è una metrica se non altro certa è neutrale ora noi abbiamo questo problema molto grosso che riguarda proprio la definizione di soggetto politico le aggregazioni e disaggregazioni che poi avvengono e non faccio certo riferimento ai presenti ma il mondo politico è maestro nel gestire queste cose per cui delle aggregazioni politiche a un certo punto si disaggregano proprio per poter guadagnare tempi di presenza sia in televisione che altrove allora il prendiamo il problema di internet il problema di internet diciamo ha a mio parere due facce al momento ma quanto dico probabilmente domani mattina sarà già smentito dall'evoluzione dei sistemi internet internet in quanto non imposto da una presenza esorbitante come è quella delle società televisive principali è immaginabile se vogliamo come un un'edicola nella quale siamo tutti liberi di comprare giornali che sappiamo a priori avere diverse intonazioni politiche d'altra parte questa è una visione se vogliamo abbastanza congelata o ferma dell'evoluzione nella misura in cui internet entra in una fase di penetrazione nella vita quotidiana il ricorso alle enciclopedie tipo wikipedia è continuo per cercare informazioni il ricorso ad altri strumenti di di diffusione è crescente a quel punto qualsiasi legame tra questi strumenti e soggetti politici espresso in maniera più o meno patente più o meno aperta complica moltissimo le cose il il nostro il nostro obiettivo per il momento è quello di come ho cercato di esprimere ristrutturare la parte chiamiamola facile per modo di dire ma insomma relativamente più semplice che è il periodo non elettorale e su questo contiamo di ricevere in maniera diretta o in maniera indiretta attraverso il loro rapporto un'ulteriore gamma di osservazioni per cercare di arrivare a una conclusione passeremo poi alla parte più complessa perché più delicata del periodo elettorale non nascondo loro che la nostra speranza è che nel frattempo il Parlamento si faccia carico di un riesame dell'intera materia dove diciamo forse vado oltre sicuramente vado oltre le mie responsabilità ma la mia interpretazione è che questa commissione ha un dovere di vigilanza sulla televisione pubblica proprio in quanto pubblica moltissime delle considerazioni che si applicano ma non tutte delle considerazioni che si applicano alla televisione pubblica ci permetteranno e quindi espresse da loro ci permetteranno di tradurle in norme sulla televisione in generale allora se loro si fanno come spereremmo alfieri di una revisione dell'intera materia bene il fatto di avere un nocciolo duro costituito dalla televisione pubblica ci permetterà poi di avere una revisione complessiva delle norme della televisione in generale e a quel punto ovviamente anche di tutti quei mezzi che fanno continuamente concorrenza alla televisione come ad esempio proprio internet e peraltro molto delicato entrare nel mondo di internet e in quanto tale quanto suggeriva l'onorevole Rossi per noi è un filo delicato perché internet è oggettivamente visto con una sensibilità particolare da una fetta molto ampia del pubblico allora il momento deve venire e verrà se non oggi settimana prossima o fra qualche mese in cui bisogna entrare in internet con una normativa che si occupi non solamente del problema peraltro importante della parcondicio ma vi è tutta una serie di altri temi nei quali chi lavora su internet fa una concorrenza non dico sleale ma diversa sicuramente diversa con una strumentazione completamente diversa ma non per questo meno pericolosa in termini concorrenziali ecco allora sarà necessario pian piano intervenire entrare in internet con una normazione che riguarda tutti questi aspetti e non esclusivamente l'applicazione della parcondicio noi abbiamo toccato con mano come sia difficile lavorare su internet ad esempio proprio per questi sondaggi mascherati da corse di cavalli piuttosto che altri scherzi del genere che credo che destino interesse più perché sono vietati che non perché diano qualche diciamo ispirazione in più al momento del voto noi dobbiamo intervenire in quanto siamo servitori dello Stato e quindi là dove c'è una contravvenzione di norma dobbiamo intervenire possiamo peraltro ritenere che appunto una corsa di cavalli non cambierà il risultato finale delle elezioni io credo di aver saltato una serie di punti invece più precisi sui sondaggi ho detto già qualcosa ecco il il problema delle tv locali è estremamente importante ce ne occupiamo non direttamente noi ma se ne occupano i corecom i quali qualora abbiano delega terminano il trattamento della presupposta infrazione e se non hanno delega invece passano a noi per una decisione finale ma dato che quasi tutti i corecom hanno delega se ne occupano principalmente loro la tematica delle televisioni locali è simile non uguale ci sono problemi diversi ci sono problemi per esempio della verifica del fatto che gli spot elettorali siano pagati o meno cosa che non si avverte a livello nazionale e problema anch'esso di una certa difficoltà perché andare ad accertarlo non è sicuramente semplice i corecom fanno un lavoro straordinario e quindi abbiamo grande fiducia nella loro capacità di gestire questi problemi i problemi delle edizioni principali edizioni secondarie innanzitutto esiste un vero problema di definizione cioè cos'è un'edizione principale cos'è un'edizione secondaria la fascia oraria di per sé non garantisce la definizione di principale ad esempio ci sono edizioni nella cosiddetta ora di cena in cui diciamo la fascia oraria di cena è un'edizione nella quale generalmente i telegiornali di Rai 1 hanno un'attrattività molto maggiore e i telegiornali di Rai 2 molto minore in altre fasce della notte ad esempio i telegiornali di Rai 2 hanno più successo allora la definizione di principale e secondario o fuori fascia diventa estremamente complessa quindi non è l'appartenenza a una fascia oraria che ci permette di stabilirlo quando cominciamo a declinare tutte queste possibilità il nostro lavoro diventa veramente veramente difficile veramente difficile se si cerca di farlo con coscienza e in maniera pulita insomma purtroppo iniziare una cosa e non farla bene fino in fondo ci espone a più critiche che non occuparsene molto meno quindi posso ancora continuare qualche minuto dunque sui sondaggi abbiamo detto io credo di aver toccato più o meno tutto se però qualcuno avesse dimenticato qualcosa sarei felice di tornarci se mi viene rammentato c'è qualcuno il commissario che ha dimenticato qualche punto vuole un ulteriore chiarimento ero la microfono sulla questione di rappresentanza rispetto alla presenza in Parlamento è la consenso invece chiedo scusa qua forse lei era fuori chiedo scusa la microfono quando si parla microfono per favore prego no no noi abbiamo chiedo scusa perché ci mancherebbe altro dunque abbiamo detto che noi abbiamo ritenuto di assumere come criterio fondamentale quello del consenso elettorale che corrisponde evidentemente al numero di voti che sono stati attribuiti alla singola lista e quindi questo è stato diciamo l'elemento perché questo è molto più rispondente a un principio che quello dell'effettiva rappresentanza democratica questa cosa quando andrà in vigore è già in vigore abbiamo già applicata anche durante le elezioni vaimi velocemente siccome la posta credo qualche collega i tempi di risposta diciamo perché i quattro mesi sono tempi lunghi sì 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 e quindi c'è probabilmente da riflettere su questo elemento ecco se vogliamo l'utilizzare un intervallo di quattro mesi cerca di dare da un lato la possibilità di una certa libertà editoriale della massima libertà editoriale possibile all'interno di costrizioni imposte dalla suddivisione per soggetto politico quindi riteniamo che quattro mesi che potrebbero essere tre o potrebbero essere cinque per carità permetta a un responsabile di bilanciare o meglio anche ribilanciare a seguito di nostri rilievi lo sforamento da una parte o dall'altra che ci sia d'altra parte noi ci siamo ispirati proprio perché la scelta fra tre e cinque e quattro non è particolarmente non viene da una formula esoterica ma è il sistema applicato in Francia e quindi l'abbiamo l'abbiamo preso anche noi il oltretutto diciamo mentre nel periodo strettamente elettorale il concetto di notizia non può essere dimenticato per carità ma deve in qualche modo sposarsi al concetto di soggetto politico se c'è una notizia se un leader politico viene assassinato è ovvio che però ci sono mille altri eventi che possono meno sanguinosi che possono coinvolgere un leader politico e quindi meritano la presenza in il notiziario indipendentemente da quello che è la distribuzione più rilasciamo la regola come intendiamo o intenderemmo fare nel periodo non elettorale e più c'è la possibilità di assorbire gli scossoni dati da notizie specifiche per qualche partito grazie è chiaro che noi come vigilanza cercheremo di lavorare al meglio per produrre questa delibera ormai ci accingiamo dove il relatore è anche il capogruppo del partito democratico peluffo però è chiaro che qua il problema è molto più alla radice quindi se non andiamo a intaccare questa legge sulla par condicio quindi della 28 del 2000 all'interno del Parlamento e quindi come legislatore primario non riusciamo poi a riuscire da questa situazione quindi io spero che noi dobbiamo riuscire a fare il lavoro migliore per poi produrre anche uno stimolo nuovo al Parlamento per poter cambiare questo tipo di normativa però ancora di più va in profondità il problema perché quando parliamo di informazione di libertà di informazione parliamo di conflitto di interessi parliamo di antitrust parliamo nel caso del servizio pubblico di riformare la governance della RAI parliamo di riassetto del sistema radio televisivo questo significa anche libertà in generale di informazione che è un concetto molto più ampio e quindi è su questo il Parlamento che si deve confrontare e deve riuscire poi a lavorare a produrre una legislazione nuova e attuale a passo con i tempi che guardi il presente e anche il futuro grazie grazie